di bei regali. Vuoi regalare o regalarti questo Natale la possibilità, non so, di parlare come un madrelingua in qualsiasi parte del mondo? Con Vasco Translator V4, il primo vero traduttore portatile universale da oggi è possibile. Con il suo schermo di 5 pollici può tradurre letteralmente in un batter d'occhio in 108 lingue diverse. Ve lo mostro se ci seguite in tv, su Millennium TV. Vasco Translator V4 è un traduttore vocale che permette di parlare 76 lingue così, con un click. E poi un traduttore di foto che permette di comprendere il testo nelle immagini, in 108 lingue, cioè voi inquadrate l'immagine che contiene un testo e lui ve la traduce. Potentissimo. E poi un traduttore di testo che permette di comprendere frasi e parole digitate in 90 lingue. Ma non solo, è anche l'app Multitalk che permette di comprendere chat multilingue e un'app di apprendimento per imparare nuovi vocaboli in 28 lingue diverse. Tutto qui dentro. Vasco Translator poi è dotato di una connessione internet illimitata e gratuita in quasi 200 paesi nel mondo. E un sistema audio avanzato che permette di ascoltare le traduzioni in modo chiaro e in qualsiasi condizione. Vasco Translator V4 è decisamente il regalo più bello per questo Natale 2023. Scopri i costi, colori e caratteristiche su www.vasco-electronics.it Vasco Translator V4 abbatte tutte le barriere linguistiche. E ve lo dimostro, in questo momento possiamo far recitare a Vasco Translator il nostro slogan, il nostro claim, in una lingua così amata nel mondo della musica in questo momento come il coreano. Come si direbbe in coreano, questa è Radio Millennium, la radio che resta in testa. Ce lo dice lui. Eh sì, proprio così. Vasco Translator abbatte tutte le barriere linguistiche. Far beyond reaching. Here's the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear? Or is the smoke fucking with your ear? Rolling on the sofa, smoke another bowl till I black out.